All'andamento incoraggiante della curva epidemiologica sulla diffusione del coronavirus in Veneto si aggiunge un'altra notizia positiva che interessa il personale della sanità che ha combattuto in prima linea la battaglia contro il Covid-19. Stanno giungendo i fatti i primi accrediti del riconoscimento economico che la Regione Veneto attribuirà sia al personale del comparto che alla dirigenza medica. Una notizia colta favorevolmente anche dai sindacati che rappresentano il personale del comparto bellunese. È un grandissimo risultato della Regione Veneto grazie anche alla pressione portata avanti e alle iniziative del sindacato. Dei 60 milioni che sono stati finanziati complessivamente all'Ulss di Belluno per il personale del comparto arriveranno 1.900.000 euro. È una cifra straordinaria. Io non ricordo finanziamenti una tantum che avessero questa consistenza. È una cosa importante. Adesso ci siamo già trovati con l'Ulss per le questioni applicative. Già col mese di giugno verrà pagato lo straordinario e le indennità relative al periodo di marzo e aprile. Poi ci troveremo per definire anche le progettualità. Per quanto riguarda il personale del comparto i fondi saranno ripartiti sulla base del personale in servizio il 31 marzo 2020. Crediamo che sia opportuno in quanto molti tra i dipendenti hanno dato il loro contributo e non solamente il personale sanitario, anche il personale tecnico amministrativo. Ci sono delle applicazioni che sono definite in maniera stretta. Il progetto da 1.200 euro potrà essere erogato solo a chi operava nei reparti Covid dedicati. Poi però c'è tutta la progettualità e ci sarà un bonus di 600 euro che potrà essere erogato anche al personale che in qualche maniera ha contribuito, ancorché indirettamente. Il lavoro che stiamo facendo è cercare di estendere il più possibile il riconoscimento economico a tutti i lavoratori. Per la dirigenza medica la somma destinata all'Ulsa Dolomiti, secondo quanto riferito dai sindacati, ammonta 1.017.000 euro che verranno erogati entro settembre.